Come va Sadhguru? Sono Sky. Ryan è mio fratello. Voglio sapere della trasformazione che le persone attraversano quando vengono nel tuo centro, perché ho visto un enorme cambiamento in lui quando è tornato. Di cosa si tratta? È un fatto che nel processo evolutivo della vita su questo pianeta, sei d'accordo con l'evoluzione? Perché arrivo dal Tennessee, è per questo che te lo chiedo. Nel processo evolutivo, è vero che noi, in quanto esseri umani, siamo in cima alla pila di tutte le creature. Si suppone che siamo l'apice. Forse c'è qualcosa in più da fare, ma in questo momento siamo in cima. Ma è anche vero che ogni volta che gli esseri umani pronunciano la parola umano, parlano solo, parlano sempre in termini di, oh, sono solo umano. La parola umano è sempre correlata alle limitazioni di essere umano. Pochissime persone hanno mai usato questa frase, sono umano, riferendosi all'immensità di essere umano. Sempre alle limitazioni di essere umano. Quindi, da qualche parte abbiamo mancato il punto fondamentale. Il punto è questo. È vero che ogni altra creatura su questo pianeta, un verme, un insetto, un uccello, un animale, con un milionesimo del nostro cervello, conducono il proprio processo di vita piuttosto bene. Ci sei? Lo fanno? Quando dico processo di vita, noi nasciamo, loro nascono, proprio così. Noi cresciamo, loro crescono. Ci guadagniamo da vivere, si guadagnano da vivere. Possiamo riprodurci, si riproducono. Noi facciamo tutto questo con tante storie. Loro semplicemente lo faranno. Sì o no? Ogni cosa semplice la facciamo con delle storie notevoli. Loro semplicemente la fanno. I vari processi di vita e di morte li fanno senza storie. Noi facciamo tutto con grandi storie. È questo un segno del più alto livello di intelligenza, chiedo? Si suppone che siamo i più intelligenti, e non c'è dubbio che abbiamo il processo neurologico più evoluto sul pianeta. Sì? Abbiamo il sistema neurologico più evoluto, per cui dobbiamo essere in grado di avvertire, sentire, fare esperienza e percepire, capire ed esprimere le cose nel modo più elevato possibile. Ma nessun'altra creatura sul pianeta fa fatica come la creatura umana in questo momento. Questo è semplicemente perché ti è stato dato un super, super computer. Sei d'accordo con me che questo è il gadget più sofisticato sul pianeta? Non l'iPhone, l'Io. Ma ora la domanda è, hai letto il manuale di istruzioni? Tutto qui. Le persone non hanno letto il manuale di istruzioni per la macchina più complessa sul pianeta. E in qualche modo, andando a tentoni, stanno cercando di usarlo. Tutto è un problema. Dimmi una cosa per cui gli esseri umani non stanno soffrendo. Se sono poveri, soffrono per la loro povertà. Li rendi ricchi? Soffrono per le tasse. Se non sono istruiti, ne soffrono. Mettili a scuola. Molta sofferenza. Non sposati? Ne soffrono. Falli sposare. Non ho detto niente. Non ho detto niente, ok? Nessun bambino. Alcune persone ne soffrono. Bambini? Sofferenza quotidiana. Sembra che tu stia soffrendo per ogni aspetto della vita. Se offriamo la morte, te ne andrai con gioia? No, ne soffrirai. Allora, dimmi una cosa che non stiamo soffrendo. Ora le persone tessono filosofie. La vita è sofferenza. No, no. La vita non è sofferenza. Ne è una gioia. È semplicemente lì. È un fenomeno. Se la cavalchi, ti sembra fantastica. Se ne sei schiacciato, sembra terribile. Quindi, stai cavalcando l'onda della vita o ti sta schiacciando? La domanda è tutta qui. Affinché questo accada, per cosa gli esseri umani stanno soffrendo? Scusa, come ti chiami? Sky? Oh! Sei un tipo grande. Sei un tipo grande. Sky, quando è stata l'ultima volta che qualcuno ti ha colpito con un pugnale? Anche se vivi a Los Angeles. È stato tanto tempo fa. Sto dicendo, ti chiedo, quanta sofferenza per qualsiasi individuo arriva effettivamente dall'esterno? Minuscola. Non è così? Il resto è tutto fai da te. Se si siedono, soffriranno. Se stanno in piedi, soffriranno. Se succede qualcosa, soffrono. Se non succede niente, soffrono. Quindi, ciò che soffrono è il loro stesso processo psicologico. Il proprio pensiero, le emozioni, sono diventate una sofferenza così enorme come pensi e senti. Come pensi e senti. Non dovrebbe essere determinato da te. Ci siete? Ciò che accade dentro di te non dovrebbe accadere come vuoi tu. Puoi vedermi, Sky? Dove sono? Dimmi. Usa una mano e indica dove sono. Ti sei sbagliato. Sai che sono un mistico. Questa luce cade su di me. Si riflette, passa attraverso le tue lenti. L'immagine è capovolta nella retina. Sai tutta la storia, giusto? Dove mi vedi in questo momento? Dentro te stesso. Dove mi senti in questo momento? Dentro te stesso. Dove hai visto il mondo intero? Dentro te stesso. Tutto ciò che ti è mai successo, dolore e piacere, sono accaduti dentro di te. Gioia e sofferenza sono accadute dentro di te. Agonia e estasi sono accadute dentro di te. Persino la luce e l'oscurità in realtà accadono dentro di te. Ciò che accade nel mondo può non accadere come vuoi, ma almeno ciò che accade dentro di te deve accadere a modo tuo. Non è così? Se ciò che accade dentro di te non accade a modo tuo, fondamentalmente non abbiamo capito qual è la natura della nostra vita. Senza comprendere, senza nemmeno comprendere il fondamento della nostra esistenza, cerchiamo di vivere. È vero, te lo chiedo ancora una volta, è vero che sia il dolore che il piacere hanno origine dentro di te? Può esserci uno stimolo dall'esterno, ma tutta l'esperienza umana viene da dentro di te. Non è così? Ciò che viene da dentro di te deve accadere a modo tuo, altrimenti sei solo una situazione fuori controllo. Tutto il mio lavoro e la natura fondamentale di ciò che viene offerto è chiamato ingegneria interiore. Cioè, abbiamo progettato il mondo in così tanti modi. Questo ci ha portato a enormi livelli di comfort e comodità. Sei d'accordo con me che siamo la generazione più confortevole, che gode delle più incredibili comodità, che nessuna generazione si sarebbe mai potuta sognare? Sì o no? Ciò che nemmeno i reali avevano cento anni fa, oggi i cittadini comuni ne stanno godendo. Non è così? Qual è la carrozza che guidi? Quanti cavalli? Sì. Sto dicendo, nemmeno gli imperatori potevano fare quattrocento cavalli, ok? Tutto questo va sprecato con l'umanità, semplicemente perché la loro esperienza di vita non è potenziata, perché il tuo benessere non verrà mai dall'esterno. Dall'esterno puoi creare comfort, puoi creare comodità, ma non puoi creare benessere. Il benessere può avvenire solo da dentro di te, perché l'esperienza umana viene creata da dentro. Non importa quale sia la natura della tua esperienza, qualunque sia, spiacevole o piacevole, entrambe vengono create dentro di te. Ma se fossi responsabile di te stesso, creeresti piacevolezza per te stesso o spiacevolezza? il più alto livello di piacevolezza? Se ci fosse una scelta tra infelicità e beatitudine, cosa sceglieresti per te stesso? Per favore, devi fare una scelta. Sto per benedirti adesso, sofferenza o beatitudine? Almeno per te stesso. È decisamente il più alto livello di piacevolezza. Ciò che desideri per il tuo vicino può essere discutibile, a seconda di ciò che hanno fatto oggi. Ma ciò che vuoi per te stesso è chiaro al 100%. Non è così. Perché una cosa così semplice non sta accadendo. Semplicemente perché questa attività cerebrale nel processo dell'evoluzione è nuova. È un nuovo avvenimento questo grande cervello. Quando dico nuovo, appena qualche milione di anni. Ma nella scala evolutiva è nuovo. Quindi abbiamo un'intelligenza per la quale non abbiamo una piattaforma abbastanza stabile. Non hai bisogno che nessuno ti torturi, non è così? Ci siete? Fai da te. Non ti serve nessun aiuto esterno. Puoi stare seduto in un posto da solo e farne un inferno. Perché la tua stessa intelligenza si è rivoltata contro di te. Puoi chiamarla con molti nomi esotici. Puoi chiamarla sofferenza, puoi chiamarla depressione, puoi chiamarla con una varietà di diagnosi. Ma essenzialmente la tua intelligenza si è rivoltata contro di te. una volta che la tua intelligenza si rivolta contro di te nessuno, nessun potere nell'universo ti salverà. Perché ovunque ti portiamo sarai infelice. Alcune persone pensano che un giorno andranno in paradiso e staranno bene. Ti chiedo, hai una qualche prova che non sei già in paradiso e non ne stai facendo un pasticcio? Hai una qualche prova? No, magari sei già in paradiso e ne stai facendo un pasticcio. Perché se hai una mente fuori controllo non importa dove vieni portato ne farai un pasticcio. Non è così. Immagina solo cento anni fa come viveva la gente in questo posto e come vivi tu. C'è una dannata cosa di cui lamentarsi in confronto. Ci siete? Oh, ma noi vi ognugoliamo da matti. Ci lamentiamo come nessun altro sul pianeta. Quindi il problema non è nell'esterno. Le situazioni esterne esistono. Alcune situazioni andranno come vogliamo, altre no. È così. Anche se siete solo due persone in famiglia, accade tutto proprio come vuoi tu? No. Questo non può mai accadere. L'esterno non accadrà mai al cento per cento come vuoi tu. Possiamo gestirlo fino a un certo punto, ma almeno ciò che accade dentro di te deve accadere nel modo in cui vuoi tu. Se ora ciò che succede dentro di te accadesse nel modo in cui vuoi, manterresti te stesso al più alto livello di piacevolezza o no? Gli è successo solo questo. Anche se confrontato alla morte non aveva importanza perché ciò che accade dentro di te accade nel modo in cui vuoi. Nessuna magia, solo ingegneria. Nessuna magia,